E la bella gente video è ben ritrovati in un'altra parte del let's play a Mega Man Zero 2 Allora, prima di iniziare le missioni Vorrei andare in giro Tipo... Vedere cosa c'è Esplorare la base Sei colui che è stato portato qui? Oh! Sembri completamente ricoperto Eeeh Sembra che tu ti sia ripreso del tutto Sono... Non ho capito Com'è che ti chiami? Rocinolle Rosinolle Cosa? Eeeh Mi occupo dei replodi infortunati O feriti Quando la ferita è seria Mega Man Space Space Help us Charvaux si prende cura di loro Ah, quindi sei inutile quanto la merda Tu cosa volevi? Se vuoi andare in un'area che hai già ripulito Per favore usa il server di trasporto È situato al centro della sala del comandante Eeeh Tipo trasferi nelle altre aree Eeeh Per usare il server di trasporto Resta nel centro E parla all'operatore Molto interessante Sì, nella scorsa parte ho confuso Comunque Sub-Zero con Scorpion Perché C'è una lunga storia Praticamente Durante Voi posso dire solo questo Zero Volevo veramente vederti Eeeh Ti avevo chiesto di rimanere con noi Mi hai mentito Ma ti perdono Perché sei tornato Ma fottiti Ah comunque le EX skill Si sbloccano se hai la Vicino alla barra della salute E io c'ho una vicino alla barra della salute Quindi nella prossima missione Sbloccheremo un EX skill Che sono così belle Ma non ci dovrebbe essere qualcuno Vabbè Controlleremo un'altra volta Come si faceva Perché non sale Ah non mi fa sale E allora fa un culo facciamo le missioni Non posso esplorare tutta la cosa Perché dovrei prendermi questa preoccupazione Ora Ah le forme vabbè Ok penso sia tutto pronto Con chi vuoi parlare Con il pizzo o con l'operatore Con il pizzo dai Che succede inizia la missione Grazie Adesso Ecco La situazione Eccoti le missioni Che vorrei chiederti Assegnarti Guarda il monitor Puoi vederli? Non dovrebbe essere nient'altro Che una sfida Per un Repload leggendario Per un eroe leggendario Ma sarei molto Ma ti sarei molto grato Se ci aiutassi Area foresta di Diz Boss Highleg Aurobocle Sì E io ci scrivo nel titolo il nome di Solboss Col cazzo Missione Recupera R In questa missione Vorrei chiederti di recuperare Il nostro comandante Il nostro tenente Non mi ricordo Ci sono rovine Conosciute come Profondità Diz No Conosciute con il nome di Diz Nelle profondità Delle foreste I nostri soldati scout Che sono mandati Sono stati mandati A investigare Non sono ancora tornati Vorrei mandare qualcuno A recuperarli Ma considerando il nostro stato Per i preparativi Della operazione imminente Non abbiamo un soldato disponibile Mi dispiace importunarti Ma lo potresti trovare A recuperarlo Sì Missione acquisita Tutti quanti si preparano Per il trasporto Per il trasferimento Teletrasporto Siamo pronti per il trasporto Trasferimento Inizia il trasferimento Buona fortuna Salve Il comandante Ci ha mandato a investigare Qualcosa chiamato Un baby elf Ma abbiamo incontrato L'esercito di Neo Arcadia Il mio tenente E' ancora da qualche parte Nella foresta Per favore salvalo Zero Le rovine Sono dietro questa foresta Usa il server di trasporto E recupera I soldati Della resistenza Che si sono persi E non c'è S.L A dirci Mission starts Purtroppo Ah già Questi Atterrano E poi ci sono A poze Cazzo L'ho preso Dai Qua non c'è niente Nascosto Strano Ah Queste sono una gran Rottura di palla Ecco appunto Devo trollarlo Fatto Non pensavo fosse così Facile Ma quanti nemici Cioè io c'ho Le armi A livello base E tu mi dai Milioni di nemici Oh un nuovo elfo The knight Oh altro elfo Ah Faccio esplodere tutto Oh no Oh 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 un altro elfo Cyber elf Ashiro Poi da Qualche parte qua Ci dovrebbe essere Cristalli Ma Non so Ciao Salve Ah pensavo di Colpirli Ah Questi sono una gran Rottura di palla E io gli sparo No Troppo in alto Ciao No Cazzo A posto Eliminati Cyber elf Bounsero Ah eccoli I cristalli Perfetto Questi con due colpi di spada Li ammazzo Con la pistolicchia Gli devo sparare Due milioni di colpi Ah qua E' bellissimo Questa è bellissima Spiderman Hanno dato Più Utilità A quel gancio Di quanto Possiate immaginare Alcune Alcune zone Le raggiungeremo appunto Solo col gancio E poi Possiamo tirarci addosso cose Anche nemici Purtroppo Non solo oggetti utili Gatover Ve l'ho detto che Mi sento un po' scorpio Con questa cosa Devo uccidere Più nemici Possibile Con La spada Perché Se no Non si può fare Ok Allora La cosa Più giusta Da fare E' ucciderlo Già Oh Vito Allora La c'è Un tizio E qua La cosa più Sana di mente Che mi viene Ah proprio Arash Facci piano Tuca Posso saltare Ahia Non me lo ricordavo Che si partisse Usasse una carica Allora qua Lo scudo mi può tornare Utile Sianamente No Pensavo lo uccidesse Con un colpo Non male Oh Ok del ragno Non me ne ero mica accorto Però Nonostante tutto Ce l'ho fatta Allora Se non sbaglio Ok ho sbagliato Allora Dove era il seber elfo Eccolo Sì E' una gran fatica E' una gran rottura di palle No 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 Ok L'ho fatta Dai per elfo Caref Non li so pronunciare Ok lo metto Allora Tu Fai questo Tu fai questo E poi facciamo questo Dammi l'elfo Grazie Ah Già Mini boss Facciamo così Andiamo Devo prendere una assolutamente Perché voglio anche un'altra EX skill Ah Cazzo Sarà un po' più Difficile Oh Mi ha aumentata la skill con La spada Adesso posso fare ben due colpi Wow Ok Ho ucciso E se non erro Di qua c'è un segreto Siel Hai trovato Un elfo raro Zero E ho trovato anche una zona segreta Haha E faccio save state Perché sono stronzo Allora Di qua non c'è niente Là c'è una vita Di qua C'è Una vita Cioè Di qua ci sono i cristalli E ora Devo tornare Indietro Ok La potevamo fare un po' più in basso Sta cosa dice Ok Si esce Perché sto caricando l'attacco Ah già Ora qua viene il bello Guardate cosa posso fare col gancio Bam Però mi conviene più Fare questo Ciao Grazie mister Zero Le rovine sono piene di trappole Per favore stai attento Quello Tu fammi capire Sei caduto qua A genius A genius Grazie Spero che gli altri stiano bene Ok Qualcosa non lo prendo Per ora Perché tutta l'energia Mi potrà tornare utile Ok Se non sbaglio La skill del Del gancio Aumenta tirando anche le cose Grazie Grazie tante Eeeh Sono andato troppo lontano E sono stato catturato Subici tu Sta dietro Allora qua c'è Questo Una sub tank di energia Cosa fanno le sub tank di energia Cose belle fanno Fanno questo Quando tutta la vita Accumulano Energia Là in basso E la posso usare per recuperare energia Bella Mi ci passo il tempo Ora A raccogliere vita Lui non mi ha trappato vita Sto masso Lo lascio qua Perché così posso fare Un'azione un po' più Frettolosa Anche Un po' più rischiosa No va bene Sono sollevato che tu sia Venuto ad aiutarmi Grazie tante Ma Io vorrei sapere Sti soldati Come ci arrivano qua Vabbè No Tu ti sei girato proprio Un momento meno opportuno Ah già Questa E' una gran rottura di palle Guardate come ci Come Tutti i teletrasporti Non è possibile Grazie Avevo perso le speranze Per un salvataggio Sì ma Come ci sei arrivato lì E' questo quello che mi preoccupa Ok Boss Meglio così E direi di fare Il classico Simstick Guardate Il soldato ha trovato Un baby elf Ritammelo E la tua vita potrebbe essere Risparmiata E' il verso Di serpente Che cosa stai aspettando What you waiting What you waiting For Scappa E' scappato con l'elfo Questa è un'area Riservata Persino per noi Di neo arcadia Non lascia Non te ne andrai vivo Sì Sei figo Sì Abbiamo Capito Posso spararti Ok Liscio Ah Liscio Ok Non devo farmi prendere Da Quei tentacoli Perché Vabbè Ah Quanta vita tolgono Quello Quegli schifi Meglio Ah Mi è saltato troppo presto Però l'ho uccido L'ho uccido Oh Ho detto che ti uccido No Se solo quel baby elf Non fosse stato rubato Avrei potuto Distruggere facilmente Il soldato Senza nome Headshot Sì E mi sono beccato Un'esplosione in faccia Nel dubbio Vediamo il voto Mi hanno dato Ah Una B Però avevamo una In questo livello E quindi abbiamo catturato La EX skill Di Highleg Auroboko Hai ottenuto Il laser shot Che non so Cosa faccia Se non sbaglio Il laser shot Attraverso i nemici Dopo che l'ho sparato E' passato molto tempo Zero EX Non posso più riposare Entrambi I baby elfi Sono stati risvegliati I baby elfi Sono ancora bambini Piangono per la loro madre E E temono la solitudine Dove vuoi arrivare EX Baby elfi I baby elfi faranno di tutto Per riunirsi con la loro madre E Oddio Prendono il controllo Della mente umana E portano il caos E' tutto per incontrare La loro madre L'elfo scuro L'elfo scuro Che ho imprigionato Quindi EX E' il custode L'elfo scuro Aspetta EX Quindi l'elfo scuro Teletrasporto Missione completata Trasferimento in progresso Due Un Trasferimento completato Ben fatto Zero Si è stato molto Si è stato veramente d'aiuto Con la tua Con il tuo supporto Siamo Stati in grado Di ritrovare un altro Baby elfo Abbiamo entrambi i baby elfi Che il neo arcadia Teneva dentro il loro vault Ancora una volta Vorrei ringraziarti Per il tuo supporto Vediamo sta EX Skill Ah Sharp Buster Shot Praticamente Il colpo attraverso O almeno Io la interpreto Così Ehm Bene Direi che per questa parte Può essere tutto E nella prossima Ci andiamo a fare Un giro Di Queste Di questo Come posso chiamarlo Di questo Manicomio Ecco Non mi veniva il termine Noi ci vediamo Nel prossimo video E state bene Bella gente Passate per la descrizione